Fabian Mazzei, Reduce da Londra, adesso già ha superato la semifinale al WTMC, allora si va ancora avanti, parliamo intanto di Londra, una battuta. Essere a Londra è stata un'esperienza straordinaria, credo che per ogni atleta sia il massimo poter partecipare alle Paralimpiadi perché veramente ti si realizza un sogno e tutti i sacrifici che hai fatto nella tua vita in quel momento hanno veramente un senso, quindi condividere con tutti i compagni della nazionale per me è stato veramente toccare il cielo con un dito. Strafelice di essere in finale oggi, ho battuto in semifinale Massimiliano Banci che veramente ultimamente sta migliorando tantissimo, sono contento perché tra l'altro viene anche a Bologna ad allenarsi quindi stiamo trasmettendo l'entusiasmo e la voglia di andare avanti, speriamo domani in una grande finale. Ecco, domani potrebbe essere tra il vincente della semifinale, tra Amadori e il Lyon. Sì, devo dire che il Lyon sta giocando bene, è un giovane molto interessante, sta crescendo, Amadori comunque dal canto suo ha un'ottima esperienza e vedremo come andrà a finire, so che stanno giocando nell'altro campo e adesso andrò a seguirli. Massimiliano Banci, siamo al WTMC, insomma la semifinale l'hai raggiunta ma hai incontrato Mazzei. Purtroppo quando incontri Fabian sono dolori, però sono soddisfatto comunque sia della partita perché alla fine ha dovuto alzare un po' il livello perché comunque gli tenevo testa fino a che non ha alzato il livello, poi chiaramente lui è nei primi eventi al mondo e quindi sicuramente è un campione di fama internazionale, appunto è tornato ora da Londra, quarta Olimpiade, insomma, orgoglio italiano del tennis in carrozzina. E Banci che cosa si prepara a fare, quali sono i tuoi impegni futuri intanto e che cosa puoi suggerire ai ragazzi che possono praticare questo sport? Sicuramente il mio programma è un anno, scusate, il toscanismo che faccio un percorso per vedere di crescere in questo sport per quanto riguarda me personalmente. Per quanto riguarda i ragazzi, lo sport a qualsiasi livello, che uno vada alle Paralimpiadi o che uno vada a fare la partitella una volta alla settimana con l'amico, va fatto.